l'elemento trave e pilastro, GeoForce 1 richiede l'inserimento dei carichi di progetto e delle condizioni al contorno. Si studia nello specifico la procedura di analisi dell'elemento trave. Analoga e per questo estendibile all'elemento pilastro. Cliccando sulla voce analizza presente sulla barra del menu all'interno della sezione elementi o direttamente sul medesimo comando presente sulla toolbar, l'utente può inserire le condizioni al contorno della trave, definendo l'interazione dell'elemento nel contesto strutturale nel quale si trova. Nello specifico è possibile bloccare gli spostamenti nodali ed eventualmente inserire i cedimenti vincolari a cui è soggetto l'elemento all'atto dell'applicazione del rinforzo GeoSteel o svincolare i gradi di libertà ed inserire le eventuali forze concentrate presenti sia prima che dopo l'applicazione del rinforzo. È possibile infine definire l'entità di un eventuale carico distribuito PD nella fase pre- e post-rinforzo. Nello stato finale, sia per le forze concentrate che per il carico distribuito, si possono inserire le sollecitazioni di progetto per lo stato limite di esercizio o ultimo. Per tale ragione, non sapendo quali siano i coefficienti amplificativi da utilizzare, il software non valuta autonomamente il peso della trave, ma richiede all'utente di inserire all'interno del PD anche il contributo del carico di progetto dovuto al peso proprio. A seguito della definizione delle condizioni al contorno e dei carichi, si inseriscono i parametri riguardanti l'impostazione dell'analisi. GeoForce One effettua un'analisi statica non lineare articolata in due step. Nel primo step valuta il comportamento dell'elemento in assenza del rinforzo GeoSteel, elaborando un'analisi statica non lineare in controllo di forze. In questa fase, il software incrementa di volta in volta il carico o il cedimento vincolare fino al raggiungimento del massimo carico o del cedimento vincolare imposto indicato nel tab relativo allo stato iniziale. Nel secondo step, l'analisi non lineare viene condotta in controllo di spostamento, incrementando ad ogni passo il carico. Fondamentale è quindi l'individuazione di un nodo di controllo, del grado di libertà da monitorare e dello spostamento massimo, informazioni che vengono inserite cliccando sul tasto Impostazioni analisi. Di default, il programma trova il grado di libertà più significativo e il nodo della trave con maggior spostamento. L'utente, qualora voglia controllare tale nodo, è chiamato a spuntare la voce Definizione automatica del nodo di controllo Gradi di libertà e ad inserire il valore assoluto dello spostamento massimo. In alternativa, è possibile indicare autonomamente il nodo, il grado di libertà e l'entità dello spostamento di controllo, differenti da quelli forniti di default. Per indicare il nodo di controllo, occorre selezionare dalla tendina ID Nodo di controllo il nodo con le coordinate desiderate. Analogamente, la scelta del grado di libertà può avvenire selezionando UZ o UX dalla relativa tendina. In ultimo, per lanciare l'analisi, il software necessita dei parametri di convergenza. La scelta di tali parametri è lasciata editabile, benché si sottolinei di manipolare tali parametri con estrema cautela e criticità, in quanto possono compromettere il risultato dell'analisi stessa. GeoForce One imposta di default i valori degli incrementi e delle iterazioni, valori che possono essere modificati dall'utente. Nello specifico, il software permette di effettuare un'analisi fissa, incrementando il tempo dell'analisi di una quantità fissa. In questo caso, l'utente deve indicare il numero degli incrementi e delle massime iterazioni. O adattiva, scegliendo il passo del tempo in funzione della convergenza ottenuta nell'incremento precedente. In questo caso, l'utente deve inserire il numero di partenza e massimo degli incrementi, nonché è il numero desiderato e massimo delle iterazioni. GeoForce One memorizza i parametri di convergenza inseriti dall'utente, fornendo la possibilità di reinserire i valori di default del software attraverso il pulsante Resetta i valori di default. Lanciata l'analisi, il programma restituisce una finestra dove sono riportati i dati dell'analisi, una tabella con indicati, per i vari passi di tempo, i parametri di convergenza e il moltiplicatore di carico, nonché il grafico del moltiplicatore di carico λ rapportato allo spostamento del nodo di controllo. Dal grafico si nota se l'elemento sia in grado o meno di sopportare l'azione inserita, a seconda del valore raggiunto dal moltiplicatore di carico. In esso, il pallino verde indica lo step in cui λ è uguale a 1, cioè quando si raggiunge il carico inserito nello stato finale, mentre quello rosso il moltiplicatore di collasso. Il software, inoltre, permette di analizzare i dati della curva di capacità attraverso il pulsante Valori, esportabili in Excel o in file di testo attraverso il tasto Copia sugli appunti. L'utente può investigare nel dettaglio il comportamento della trave analizzata e nello specifico visionare le variabili nodali, le variabili interne dell'elemento, le variabili relative alle singole sezioni, lo stato di lavoro del calcestruzzo, dell'acciaio, del geostil e del geolite magma, nonché tutte le grandezze presentate per ciascun passo dell'analisi, indicando il passo scelto nella tendina Passo di tempo. Il software permette inoltre di ripercorrere l'intera evoluzione attraverso il comando Play, Pausa e Termina. Gli output così restituiti forniscono all'utente tutte le informazioni necessarie per comprendere come si comporta l'elemento, se arriva o meno a rottura e, nel caso, individuare le ragioni dell'instabilità dell'elemento. Quanto appena visto per la trave risulta invariabile per l'analisi dell'elemento pilastro.